dobbiamo cercare innanzitutto di capire quando una funzione come quella che è presente sul vostro schermo può essere definita dalla composizione di due funzioni in questo caso possiamo in effetti osservare che la funzione e elevato alla x alla seconda meno 3x si ottiene dalla composizione della funzione f di x pari ad e alla x e di g di x pari a x alla seconda meno 3x per intenderci per ottenere la funzione complessiva dobbiamo sostituire l'espressione definita da g di x guardate x alla seconda meno 3x nella funzione f al posto di x questo in effetti è quello che accade da un punto di vista pratico che andrebbe accompagnato da alcune considerazioni teoriche diciamo che in questa video lezione andremo a considerare funzioni definite condomini e codomini che garantiscono la possibilità di poter comporre due funzioni inoltre le due funzioni che abbiamo indicato rispettivamente con il nome f di x e g di x possono essere distinte in funzione principale in funzione secondaria in particolare la funzione principale è quella che tra virgolette contiene l'altra nel senso che è la funzione in cui viene tra virgolette lo sottolineo sostituita l'espressione definita da g di x in ogni posizione in cui appare la variabile x la funzione g invece è definita funzione secondaria è importante lo vedremo tra poco soprattutto nel calcolo delle derivate essere in grado non solo di riconoscere una funzione composta che in questo caso è definita da un esponenziale con esponente definito da una funzione algebrica razionale intera ma è anche fondamentale distinguere la funzione principale rispetto alla funzione secondaria infatti se andiamo a considerare la formula che inseriamo all'interno di una cornice verde è relativa alla derivata di una funzione composta guardate ottenuta appunto alla composizione di due funzioni f e g osserviamo che tale derivata viene definita dal prodotto di due espressioni la prima caratterizzata dalla derivata della funzione f quindi della funzione principale calcolata nella funzione secondaria per la derivata della funzione secondaria naturalmente anche in questo caso dovremmo inserire opportuni riferimenti teorici relative alla derivabilità e ad altre caratteristiche delle funzioni f e g ed è inoltre possibile dimostrare tale formula a partire da un rapporto incrementale come abbiamo fatto in altri video presenti all'interno del canale youtube un quarto d'ora con il prof in particolare nella sezione relativa al calcolo delle derivate e quindi riprendiamo l'esempio iniziale che ci ha consentito di definire in particolare alcune caratteristiche delle funzioni composte ora seguendo la formula per calcolare la derivata della funzione introdotta dobbiamo calcolare la derivata della funzione principale che è un esponenziale in g di x per la derivata di g di x e quindi y' sarà uguale a e elevato alla x alla seconda meno 3x visto che la derivata dell'esponenziale risulta uguale ad e alla x e questo giustifica la presenza della e ma in questo caso calcolata attenzione la derivata di g di x quindi caratterizzata da un esponente non pari a x ma appunto pari a x alla seconda meno 3x per la derivata di x alla seconda meno 3x che è pari a 2x meno 3 che ho inserito come primo fattore dell'espressione complessiva per una questione puramente formale ma visto che l'appetito vi è mangiando proponiamo altri esempi relativi alle derivate di funzioni composte cercando di procedere in maniera analoga rispetto a quanto fatto nel primo caso ossia dobbiamo innanzitutto riconoscere che la funzione da derivare è composta ricavare la funzione principale quella secondaria dopodiché applicare opportunamente la regola proposta per il calcolo della derivata conoscendo naturalmente le regole utili al calcolo delle derivate delle funzioni fg ricavate pronti? sono d'accordo con voi i passaggi a seguire definiscono un approccio articolato ma comunque comprensibile allora procediamo per step innanzitutto la funzione considerata è una funzione composta definita dal logaritmo non di x ma di un'espressione rappresentata da un'altra funzione che tra l'altro uguale alla funzione secondaria dell'esercizio precedente ed è una funzione algebrica razionale intera quindi in questo caso la funzione principale quella che tra virgolette contiene l'altra è definita dal logaritmo di x mentre la funzione secondaria è definita da x alla seconda meno 3x infatti sostituendo nella funzione principale al posto della x la funzione di x otterremo appunto il logaritmo naturale di x alla seconda meno 3x ma procediamo quindi alla derivata e quindi calcoliamo il fattore relativo alla derivata della funzione principale calcolata nella secondaria ossia 1 fratto x alla seconda meno 3x visto che la derivata del logaritmo di x è pari a 1 fratto x ma in questo caso al posto di x da virgolette dobbiamo riproporre g di x ossia x alla seconda meno 3x per la derivata della funzione secondaria pari a 2x meno 3 risistemando i fattori ottenuti otteniamo come risultato una funzione algebrica razionale fratta di questo tipo ma passiamo a un altro esempio osserviamo che anche in questo caso siamo in presenza di una funzione composta in cui la funzione principale è definita dalla potenza x alla terza e la funzione secondaria è definita dalla funzione algebrica razionale intera 7x meno 1 in effetti la funzione complessiva è ottenuta a partire appunto da x alla terza sostituendo al posto della x l'espressione che definisce g di x e quindi possiamo derivare la funzione calcolando come nei casi precedenti come nei casi precedenti guardate la formula generale la derivata della funzione composta calcolata nella funzione secondaria per la derivata della funzione secondaria e quindi considerando che la funzione principale è una potenza e che la sua derivata si ottiene anteponendo il valore dell'esponente come fattore della potenza e scalando di un grado l'esponente di partenza otterremo quanto segue guardate il 3 è stato riportato come fattore dell'espressione ottenuta mentre l'esponente iniziale è stato ridotto di un grado e quindi conservando come base non x ma l'intera espressione guardate anche la formula generale che rappresenta g di x manca però un fattore visto che alla derivata della funzione principale calcolata dalla secondaria va moltiplicata la derivata della funzione secondaria che è pari a 7 e il tutto uguale moltiplicando i due coefficienti numerici presenti tra i fattori dell'intera espressione a 21 per 7x meno 1 alla seconda pronti a un altro esercizio e poi abbiamo finito almeno per oggi tra l'altro siete onesti potevamo concludere questa video lezione senza un riferimento alle funzioni goniometriche non mi pare carino in questo caso siamo in presenza di una funzione composta e attenzione vi ricordo che il seno al cubo di 2x è un'espressione che definisce una potenza con base pari a seno di 2x ed esponente pari a 3 quindi in maniera analoga rispetto al caso precedente osserviamo che la funzione principale è definita dalla potenza anche in questo caso pari a x alla tezza mentre la funzione secondaria è definita dalla base della potenza analizzata quindi dal seno di 2x fate attenzione ripeto al linguaggio formale che porta a scrivere gli esponenti delle funzioni goniometriche ma anche del logaritmo ad esempio in questa posizione ricordandovi che appunto siamo in presenza di potenze quindi lavorando in maniera analoga rispetto ai casi precedenti proviamo a calcolare la derivata della funzione complessiva e quindi partiamo con la derivata della funzione composta che è una potenza e quindi ci porterà a scrivere un'espressione in cui come in precedenza riporteremo l'esponente di partenza come fattore dell'espressione complessiva scaleremo in un grado l'esponente della funzione e a cui dovremo moltiplicare, attenzione, la derivata del seno di 2x perché ho richiamato la vostra attenzione? perché, guardate un attimo qui, il seno di 2x è a sua volta una funzione composta in cui la funzione principale è data dalla funzione senx mentre la funzione secondaria è data da 2x in questo caso non riscriverò la suddivisione delle due funzioni visto che ormai siamo competenti in materia provando a derivarla seguendo i passaggi opportuni e quindi, visto che la funzione principale è il seno la derivata del seno di 2x sarà definita dal coseno di 2x ossia dal coseno che è la derivata del seno calcolato nella nuova funzione secondaria pari a 2x per la derivata appunto della secondaria pari a 2 quindi risistemando i fattori rappresentati da coefficienti numerici otterremo quanto segue chiaro?